Benvenuti in un nuovo video questo sarà un video in collaborazione con altre ASMR artiste italiane abbiamo deciso di lasciarvi due minuti di noi per farci conoscere nell'info box troverete il link di tutti i nostri canali passate di iscrivervi, lasciate un commento e un mi piace fateci sapere cosa ne pensate buon rilassamento e buona visione buon rilassamento e buon rilassamento 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 e buon rilassamento e buon ha Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.